allora salve ragazzi allora qui siamo nel centro commerciale dove dove io lavoro dove la mia attività oggi è lunedì 20 luglio faccio questa ripresa faccio questa ripresina scendo alla scala mobile se non mi ammasso ecco sto scendo alla mobile vi faccio vedere un po come la situazione il 20 luglio ok dove lavoro io ok questo è un locale questo è il locale diciamo a fianco al mio ecco qua vedete i turisti vedete ecco qua qui la mascherina non è obbligatoria è obbligatoria solo se sta negli assemblamenti ecco qua questo è invece questo il mio locale chi lavora porta la mascherina questo è il mio locale eccolo qua vedete ci sono i turisti i turisti ci sono e niente questo è il quanto diciamo che siamo a pieno regime si lavora e via ecco qua vedete la mia terrazza abbiamo messo un distanziamento però alla fine si lavora ok questo è il quanto allora saluto greg morrison dove dice che tutto spianato l'abbiamo detto e greg che di astronomia non astronomia non ci capisce la mazza perciò è meglio che sta zitto e via vi faccio rivedere come la situazione i turisti ci sono anzi questa poi allora sono quasi solo le tre ecco lì sono le tre meno meno un quarto meno dieci ok perciò i turisti ci sono sono arrivati ci stanno noi lavoriamo poi se le arti non lavorano il mio locale diciamo che è sempre pieno se le arti non lavorano è un problema loro non è un problema mio ciao ragazzi ciao